Musica Ciao a tutti amici e bentornati in Lucius 2 la profezia Come al solito io sono Amorius, qui con me Matreius Matreius, bravo Matreius, siamo pronti a continuare là dove ve l'avevamo lasciato Mi raccomando amici, tanti like E che Lucius sia con voi e che vi venga a prendere, no sto scherzando ovviamente Comunque siamo alla nuova puntatissima e abbiamo il bolide Amorius, sei contento? Strano ma vero, c'è il bolide C'è il bolide, ora saliamoci sopra E dunque dobbiamo, trovo un modo per superare il cancello principale Io aspetta aspetta entra in Aspetta Non mi fai investire, voglio provare cosa succede Ma non succede un cavolo, non succede Non c'è neanche una macchina, dove cavolo? Vai dall'altro, dall'altro della strada Così? Perdiamo energia e basta Matreius, abbiamo perso energia per niente Comunque, detto questo Passare già dal cancello Dal casello, sto dicendo Cortile depuratore Passare dal cancello principale Distruggere il depuratore 1 Distruggere il depuratore 2 Distruggere il depuratore 3 Versare del veneno nel laghetto Vi vorrei ricordare che Lussu sta facendo una gara Contro Isaac Che è un altro bambino diabolico Bambino malefico Esatto Però, vediamo se ce la farà a superarlo Filmatino Gate Che è l'intruttore del cancello Dove dovremmo andare? Forse sta bruciando qualcosa Sì, le tue chiappe, amico, tra un po' Perché il mondo si è uguale Cosa c'entra con il fatto che si è bruciato qua? Così, dialoghi a caso Credo che nascano già così Le mele marce tra gli altri Ma che cosa c'entra? Ok, allora, lascio un attimo qua il bolide, eh Giusto per farmi Prendi le pinze e un blocchetto Perfetto Poi qua per terra Mi pare che c'era anche il portafoglio Che non Terzo male Ho un'idea Sì Vai davanti Che cavolo, se è bloccato in un ciuffo d'erba No, volevo vedere se magari dentro la macchina trovavamo qualcosa Dicevi? No, ci ho cambiato Davanti al Allo sportello Comanda telecinesi con il 2 E attivi il gate Eh, ottimo Possiamo provare Tanto però L'abbiamo mai usato Scusa, ma te lo schietta Sto era quello Abbiamo quattro punti Cioè Migliora quella Questo qua No, no, no Migliora Io direi Migliora la telecinesi Va bene No, non è quella Telecinetico Il controllo della mente Ancora Ma sì Via Che male non fa Perfetto In teoria premendo 2 Quello 2 non lo possiamo premere No, guardando lui Puoi comandarlo magari Beh Bello Matreus Grandissimo Ma possiamo fargli fare altre cose Tipo No, tu qua Vai di qua Vai al cesso Stai qua Ok, basta Basta Ok Basta Non voglio più No, non uscire Ok Che cavolo Benissimo Mi posso fottere La sveglia Sì Entra prima che chiude il cancello Che rumore è Tutto avverrà secondo la profezia biblica Al suono della seconda tromba Arriverà un enorme montagna Un asteroide Che sprofonderà Un terzo delle creature Maria delle navi Un terzo delle creature Diventerà sangue Questa l'opera Dovremmo sbrigarci Se vogliamo guadagnare Lo stesso prestigio Che lui Ha acquisito di recente Va bene Ok Che cos'è sta luce? Cos'è sto? Va Lascio provvisorio qua Il mezzo Il polide Mi fotto questo Che ha Tannica dell'acqua Non ci servirà niente Perché non abbiamo più Il defibrillatore Valvola di scarico dell'acqua So che cavolo ho fatto Sega circolare Ancora Arriva qua il tizio Ok Questo qua Dunque Dobbiamo distruggere Il depuratore 1 Andiamo a vedere dov'è Prima di tutto 1789 Non ricordo Cioè dentro di qua Mi chiami 1789 Ok Perfetto Quindi dobbiamo fare fuori Il tizio qua In qualche maniera Amatarius Come diavolo L'amazione Questo qua No Pensavo fosse tipo La No Qua ci corre C'è del combustibile Cos'è? Si muove sta cosa qua? E questa cosa Eh potremmo Potremmo fare Agganciarci Aggancio usato Per sollevare gli apparecchi O uccidere le persone Cioè tipo adesso Vai Tipo adesso così? Ma no Dove è andato? Guarda Certo che però Scrivere la descrizione Di un oggetto Come l'oggetto è troppo distante È qua Cosa sta dicendo? Ma è qua È Ma che cavolo Ma Ma che Ma perché era troppo distante? Era lì Era Certo che Descrizione di un oggetto Può essere usato per Alla cavolo Per Veramente Alla cavolo Eh scusi Signale Aspetta le chiavi 3624 3624 Sembra che soffra molto Quando va a cacare Ma perché cacare? Ma perché? Bottiglia con composte Beh io mi tiro su tutta Alto voltaggio Quadro eretico fragile Qua si può spaccare tutto Una donna strana Vabbè chi se ne fotte Ciambelle Io mi fotto tutto L'inventario pieno Porca caccia Eva Buttavi alle due penne Che c'hai lì Sì è vero Infatti le penne Che cavolo ce ne frega Un bastone di legno Puoi anche lanciare Cosa è già dall'inventario Niente a bastone di legno Chi è? Questa qua guarda E dice Chi ha toccato Ma tutto bene tesoro? Insomma Perché nessuno si accorre Pensa che Magari c'è qualcosa di sbagliato In un bambino Dentro un Questa ha visto? Perché quel bambino Ha lanciato Una scatoletta Una scatoletta Allora una è qua E attenzione Porca c'è Già visto Un tipo grasso Dall'aspetto messicano Impegnato a fare qualcosa Di importante Mentre sta seduto Allora un controllo Sembra questo Credo Io direi L'angeli e le pinze All'oggetto là Beh Ok Abbiamo aperto uno shortcut Perfetto Però il quadro Sembra che sia qua È uno dei quadri Sì è quello lì Che si illumina E uno è questo qua Cioè no Uno è questo Probabilmente però bisogna Però non dice niente Della chiave necessaria Ho aperto l'acqua Sì l'acqua Sì leggermente però E là c'è Distruggere depuratore 1 Che cosa fa È un interruttore elettrico Beh pensavo che dava In teoria Lì c'è la Barbara Raiden Aspetta che questo qua Rompe le palle Beh potremmo mandarlo Nell'altra stanza E noi attivare l'interruttore No Lo dobbiamo distruggere Vabbè Mentre lo distruggiamo Vabbè Comunque vabbè Eh no Qua bisogna capire cosa fare Oppure chiamarlo al telefono O chissà cosa Beh Vediamo cosa viene all'inventario Aspetta ma noi abbiamo le pinze Vai dall'altra parte della porta Vai O lì c'è qualcosa Vabbè Basta che prendi le pinze E gliele lanci contro lo geno Questo Questo Il dildo qua Il dildo Non l'abbiamo usato No Contro l'oggetto là Che devi rompere Ma dov'è Non c'è È il pannello questo qua Vai davanti lui Ma fa niente Lo eviti Ma a parte che non lo vedo mai Col pannello illuminato Pannello controllo Ho capito Ma non Sì Ma c'è davanti lui Non lo prenderei mai Sto qua Come fai a prenderlo Proviamoci Non ce la fai Ma no Con le pinze Ma abbiamo ucciso anche il tizio Ah no Però ha funzionato Sì Ok A questo punto Chiudere la valvula 1 Qua abbiamo bottiglia di acido Che è la nostra specialità Di uomini dell'acido Ok Scusi signore Ma zitto Che cavolo vuoi Dobbiamo chiudere la valvola qua Sì Come abbia fatto ad arrivare a questo incarico Perché chi lo sa E vado di qua E mi cippo Cioè che cosa stai dicendo Matreus Dall'altra parte Sì ma là Dobbiamo entrare E cercare di entrare lì Se fai No Non da dentro Da fuori No No Ma poi perché Perché c'è una porta Dall'altra parte Ho capito Ma non ti fa entrare Cioè Ma che cavolo si è incastrato nelle gomme Vedi Noi dobbiamo entrare qua Capito che c'è una porta lì O facciamo un giro da dentro E c'è una porta che arriva lì Può essere Proviamo Che potrebbe essere di qua Ci riporta allo stesso punto Eh no Allo stesso punto lì Teoria dovremmo Ma non si può neanche uscire da sto stabile Ecco Allora Ragioniamo Dalla Non è che c'è da tanto ragionare C'è da capire come aprire quella porta lì Del cavolo Che cavolo è questo qua C'è soldi qua dentro E io li fotto tutti Anche questo Le pillole Inventario pieno Che palle Sto inventario pieno C'hai due penne lì Lascia cadere Va bene Ok Cavolo Abbiamo tre depuratori Uno più Ma che cavolo Che si blocca nelle gomme Questo adesso sta sempre qua Cioè fammi capire Aspetta Allora O spacchiamo questo Che non so cosa procura Però proviamo Capina dell'altra dimensione Mandando Proviamo Proviamo a spaccare questo qua Ok Bel lancio Bel lancio Amor Complimenti Ok Ah c'è il cavolo Ok Con l'acqua Dovrebbe prendere Ma perché sbaglio Sempre a schiacciare i tasti C'è l'acqua C'è l'acqua dappertutto Meno dove serve Guarda Non la mette qua No Non la mette proprio qua No è finita Sì ho capito Ma non la metteva neanche qua Scusa amico Viene un attimo Viene un attimo Qui No niente Amico Né un altro Né un altro Di Serbatoia No comunque non fa un cavolo Le chiavi no Perché non c'è No qua dovevamo buttare Qua non fa Eh L'abbiamo ammazzato Ah ho attivato qualcosa lì Questo arriva Aspetta un attimo Aspetta Aspetta Vieni qua Tu Passo ancora Anche questa eh No niente Botanica di benzina Realmente abbiamo mosso il cavo Quando siamo entrati No può essere Però io non riesco a capire Questo qua Ah lì c'è L'interruttore Forse dobbiamo sparargli L'acqua sull'interruttore Sì Ci abbiamo Può essere no Ce l'ha un'altra Tanica Eh ho capito Ma è da qua l'acqua che esce No prendi la tanica nell'inventario Che cavolo me ne faccio Della tanica nell'inventario Colleghi Il pezzo lì È la corrente Sì ma non facciamo Una ceppa Ah beh no è vero Però sì è vero Hai ragione Hai ragione Potrebbe funzionare Potrebbe Matreius Potrebbe Io la metto anche Ha funzionato subito Cioè così Bam Va bene Ma funziona Brava E' morto pure l'altro Muoiono tutti Ma che cavolo Lasciami Che cavolo Poi schiacciato Esco e poi sbaglio Ma perché mi vengono A rompere le palle Perché c'avevi l'acqua Secondo me Ho capito Che non c'hai più vita Eh lo so Vorrei andare al cesso Ma ero occupato Penso che lo potevi usare Comunque Ok Distruggere il depuratore Uno Fatto Questo depuratore Era il primo posto In cui l'acqua veniva controllata Ora mi hanno messo Tutte le impurità Ne possono passare Che cavolo vuol dire Vabbè ok Possono passare Delle impurità Ora Ma io tornerei La La chiusura funziona Con un telecomando E dobbiamo Ehi Interruttore Amico Amico C'è qualcuno Amico Amico Eccolo Due C'era delle chiavi Adesso stiamo usando i poteri Cosa che non abbiamo usato Fino all'altro ieri E si Anche delle chiavi Secondo me Serviranno a breve Perfetto Qua Ok Serve la 52 57 52 57 Che ce l'abbia Mi ricordo che c'è L'intenzione al cesso L'intenzione al cesso Se Esatto Ok allora Qua abbiamo Per ucciderlo O il fottuto acido 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 Poi fanno schifo Stai con amici Veramente si capisce un cacchio Abbiamo le pillole ma non abbiamo da mangiare Si ci abbiamo le ciambelle Tocca lo so le ciambelle Perché non le vedo mai Ma perché non le vedo mai Andiamogli le ciambelle a questo qua No beh io uso le ciambelle Io le ciambelle Eh ci sono le ciambelle Che schifo è mezzo nudo Mangia le ciambelle Mangia le ciambelle Che schifo Scusate amici non lo inquadro perché era una schifezza Vederlo mezzo nudo sto qua Mamma mia Guardate Cos'è esploso Vabbè Andiamo le chiavi Ma te lo svegli più in qua Sennò sei fuori dall'inquadratura Oh Ha cagato un diavolo Ha cagato un diavolo Diavoletto Ok abbiamo le Che schifo Questo qua mezzo nudo lì così Vabbè Insomma Dove c'avevano le chiavi se non c'avevano I pantaloni Non lo so Oh E qua Abbiamo aperto Perfetto Ora Qua c'è che cavolo è Questo mi piace Questo mi piace Allora diamo un po' Questo uccide qualcuno Qua c'è un tizio E questo qua 7230 le chiavi Amico Te mi stai roppendo altamente le palle Ti dico che appena arrivi qua C'è una bella C'è una bella info per te Eccola qua L'ho mancato Ok a ritorno non sarai così fortunato amico Eeeh Vai Preso di netto Te l'avevo detto amico Di 7 Ok 7230 7230 Acido vai Vado di acido Questo si Nelle palle gliel'ho tirato l'acido Sì Prendiamo le chiavi Apriamo subito Però prima di andare Bisogna Bisogna rinfocillarsi Per quanto riguarda Secondo me Qualcosa Vediamo un po' Se abbiamo Perché qua c'è tanica scivolosa Scusi signore Altra tanica scivolosa Niente C'è solo tanica scivolosa E basta Ce lo portiamo appresso Via così Comunque va bene Io voglio trovare un Un cesso Altra acqua Questo ne spara di più C'è sempre il cavo L'acqua ce l'abbiamo Probabilmente dobbiamo Collegarla A qualcosa Questa è una zona Limitata E adesso Questa come lo uccidiamo Qua c'è il quadretto Qua c'è Ah l'interruttore Ok E questo in teoria Bisognerebbe fare così Guarda Te fa vedere Teoria Teoria Questo qua Se io lo piazzo Fino a qua Ok Adesso io Prendo Per esempio Le pinze Dove sono le pinze Ci sono le pinze Qui Mossa Muove tutto Ma se chi se ne fotte Ok Via dall'acqua Ok Adesso Prendiamo il portafoglio Ah non serviva Ok Abbiamo fatto Lo stesso Perfetto Che si è Scezione Intanto Siamo saliti anche di livello Ma chi se ne fotte E qua Praticamente Abbiamo Ah Vedi C'era l'acqua Da mettere Sì ho capito Ma tra i usi adesso Adesso la metti pure di là E riattivi la corrente Prima che si asciughi Di là dove? Di là dove hai messo prima l'acqua che si è asciugata No Ah qua qua dici Prima che si asciughi l'acqua Sì è vero potremmo funzionare Non va un cavolo Eccolo Eccola Si è già asciugata La vista tarica Ah Perfetto E beh Cioè Lascia qua l'acqua Eh lascia qua Aperta Con calma Arriva fino a qua E ora No 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 Lascia qua Attiva la corrente Eccola Perfetto Perfetto Qui ha Q per aprire log mission Sì Trovo un modo per superare il cancello principale Allora Qua c'è Qua c'è la tannica di benzina che me l'ha foto Ma si è buggato tutto Ma cosa? Non dà più le frecce Io questo qua l'ammazzo facile Devi Io questo l'ammazzo La pompa lì Io questo l'ammazzo Però io Ecco Volevo ammazzarlo Ma Treus Porca c'è Va bene ok L'abbiamo ucciso lo stesso Volevo sparargli col coso là Va bene ok E' andata bene lo stesso amici Ok perfetto Oggi tanti uccisi Sì E questo è da distruggere normalmente Lancia qua Che cavolo di palle sto qua Ma guarda Via Vieni qua Vieni qua Vieni qua T'ho detto di venire qua Vieni qua Passa dalla porta Vabbè Allora stai lì Stai lì Via Eh che cavolo Ma Basta Non lo voglio più trascinare Lasciamolo lì Ok Allora Pannello di controllo delle acque Gli tiriamo la sveglia Ancora sveglia Si è sbagato Prima non mostrava più L'acqua passa attraverso la stazione di purificazione Ora è stata manomessa Qualsiasi cosa fosse versata nel laghetto Se lanci un attimo la sveglia Da qualcosa oltre a prendi Utilizzo Sì Probabilmente per far la bomba Vabbè Vediamo Innanzitutto Una salute bella rossa Ok siamo all'ultima Chiusa la chiave Però non c'è la Il cosa della chiave C'è questo Secondo me non è tanto utile No Per ora dire di no No Sì invece Guarda puoi passare da sopra Sali sulle scale È vero Hai ragione Se io salgo sulle scale Ma è successo Con calma Lucius Ma lui si sa un po' il culo quadrato Palle Già la quarta volta che salgo Salgo Che salgo In questa fottuta scala Vai e ti ha rotto le palle Vai di qua E salgo su quel tubo lì Quale tubo? Questo tubo qua dietro Sì Sì e poi Porta di qua forse Da di qua puoi salire su E arrivare di là Proviamo Semplice Proviamo Non l'avevo notato prima Sì è vero No non è vero Di qua Attivi Attivi il coso sotto Aspetta che Devo prenderlo È quello di Cavolo è Che cavolo Cinque Sì quindi Potevo lasciarlo anche qua Sì forse è fatto Per quelli che Sì Aha E ora Sì c'è passato E ora va di qua Vai di qua Scendi giù Sì è fatto anche Per chi non ha Il massimo Di quei punti lì No Ok dunque È qua la valvola Chiudila E chiudi pure Quella dietro Non se ne che sta arrivando Ho visto Che cacchio Ma tre Usata calmo Che qua Non è mica tanto facile Dovrei segarlo Io in teoria Questo qua No Beh non c'è Cioè vai dritto di lì Ok Poi qua c'è la porta 1086 L'hai aperta Ce l'avevamo già Sì E questo è il depuratore Però dobbiamo prima fare il pannello Il pannello non è di qua Sì è di qua È lì Eh però c'è la stanza di qua Sì però è lì Scusa Composto infiammabile Abbiamo un sacco di composto infiammabile Meno che Inventare completo Lascio qua Questo cos'è Ah ok Chiodi C'è una tizia lì Servirebbe la sparacchiodi Ah però in teoria Apri E distruggi Infatti Io tiro proprio grezzo Così Top E magari Lo uccide pure No Questo è il filtro finale Che assorbe Residio delle impurità Rimaste nell'acqua Ludlov si trova vicino A uno dei più grandi laghi Della zona Ed è proprio qui Che avviene la filtrazione Dell'acqua Per tutti gli stati Confinanti Non ci serve Ma volevo Fottigli qualcosa Va bene Ok Ora andiamo da questa parte qua Dobbiamo solo versare nel veleno Il laghetto No Versare del veleno Nel laghetto Nel veleno Il laghetto Va bene Ok Ok E praticamente Contaminiamo tutte le acque Ah proprio Ah si Uno butta così Le sostava Si Beh qua abbiamo devastato il mondo Cioè qua abbiamo fatto veramente A questo punto Vai alla centrale elettrica Porta chiusa Te pareva Ok Era più facile del previsto E abbiamo completato anche questa fottuta missione Incredibile amici Abbiamo completato anche queste missioni Vediamo un po' qua Lucius ha poesonato il prodotto di acqua Il corno Inizia il suono È la marca dell'esposto E questa cleansione Ha iniziato Incontriamo Isaac molto presto Nel buoio Nel buoio Direi quindi che per questa puntata è tutto Amici ci vediamo nel prossimo futuro video Dove andremo avanti in questo Lucius Gara con Isaac Bellissima Mi raccomando Like Commento condivisione Mi piace cosa stai dicendo Mi piace Isaac poteva far cadere la meteora Lui si sposteva Inquoio Il buoio Ma cosa stai dicendo Inquinare le acque Ciao a tutti Ciao